Processo per estorsione, concorrenza non gradita, sabotaggi ad agenzia funebre. Sabotaggi, minacce verbali, esplosione di due colpe di pistole del piano per un attentato dinamitato. Queste reazioni messe in atto dal titolare di un'agenzia di ignoranza e funebre di Sortino nel Seracusano contro un'impresa concorrente. In occasione della prossima udienza fissata per il 5 febbraio è previsto il controesame di Messina ad opera dei legali della difesa. Processo a carico di Angelo Briganti, 52 anni, di Vincenzo Cuglisi, 48 anni, entrambi dipendenti di Antonino Inturrisi, 71 anni, titolare di un'agenzia di pompe funebre di Sortino e ora rinchiuso in carcere come due imputati. Si è parlato del danneggiamento della porta d'ingresso dell'agenzia di ignoranza e funebre di proprietà dell'impresario di Ragusa Carmelo Messina nella zona borgata di Siracusa. L'impresario di pompe funebre Carmelo Messina ha sostanzialmente confermato le accuse a carico degli imputati al processo per la presunta estorsione per la quale sono finiti sotto processo. La parte offesa è stata esaminata dal pubblico ministero e ha risposto alle sue domande. Ha ribadito di aver incontrato negli anni passati il paroco della chiesa madre di Sortino, Don Vincenzo Cafra, che gli avrebbe consigliato di evitare di estendere la sua attività nel comune ebleo. Messina ha riferito anche di aver letto ben altro tipo di messaggio dalla richiesta di un agente di polizia locale di richiedere l'autorizzazione a esercitare l'attività di pompe funebre di Sortino. Ha poi confermato di aver avuto problemi nell'esecuzione di lavori al cimitero, mentre ha rimarcato l'episodio in cui nel 2019, mentre stava tornando nel capoluogo, la sua auto è stata affiancata da una BMW da cui un uomo gli ha fatto segno con dito indice di premere il grilletto, un gesto che avrebbe interpretato come una velata minaccia al pari delle altre subite in quel periodo in cui aveva iniziato a lavorare a Sortino. Ad apertura di udienza, il tribunale presidente Calafrao, Allatera, Salvatore Cavallaro e Liboria Mazziotta, ha disposto la riunificazione delle posizioni di tre imputati, oltre a Marcello Briganti e Vincenzo Puglisi, entrambi assistiti dall'avvocato Iunio Ceresti, sono comparsi Antonino Enturrisi, titolare dell'agenzia di pompe funebre di Sortino, Innocenzo Pandolfo, che dal carcere avrebbe dato istruzione per le minacce all'impresario, e Seracusano Gianni Pezzinga, accusato di aver sparato due colpe di fucile a Cannemolz contro l'ingresso dell'agenzia di pompe funebre della vittima nei pressi di Piazza Santa Lucia. Grazie.